investire in orologi o e-commerce ragazzi se voi non avete soldi come fate a investire in orologi? Ragazzi non fatemi sentire che sto parlando un po' di orologi nel mio canale vi presenterò altri orologi che ho comprato ho speso 700.000 euro negli ultimi mesi ve li presenterò gli altri che ho comprato però una cosa che dovete capire l'orologio è proprio l'ultimo step cioè proprio tre anni fa non ci pensavo neanche quando guadagnavo anche 100k al mese ma non ci pensavo agli orologi avvengono dopo prima ci sono tutta una serie di altri investimenti sui tuoi e-commerce e poi quando hai 100k stabili al mese hai dei brand sei già diversificato allora dici cazzo ho un patrimonio di manche un milione di euro come posso metterlo anche in qualcosa di fisico che potrebbe anche perché ragazzi attenzione che gli orologi sono molto speculativi cioè sono speculativi io non ve lo nascondo per oggigiorno io in patrimonio di orologi ho un milione e trecentomila euro all'incirca impossibile che badano tutti a zero però se perdessi un milione e trecentomila sì mi rode ma non è che sto con le chiappe a terra cioè sono sempre io sempre milionario non mi cambia assolutamente nulla ok sento della gente ho un vestito su un day just sono risicato con sei un coglione allora Grazie.